Concerto di Natale 2019 della Fondazione Castel Capoano, un appuntamento magico con la musica e non solo, con l'arte e la convivialità, con l'amore per Napoli e le sue tradizioni millenarie. Questo è lo spirito che ogni anno muove l'evento organizzato dalla Fondazione, presieduta da Antonio Bonaiuto, con la proverbiale ed instancabile attività promozionale dell'Avvocato Giovanni Siniscalchi. L'Avvocato Siniscalchi, concerto di Natale della Fondazione Castel Capoano, una ricorrenza importante che tutti gli anni porta all'attenzione a determinati temi, anche essi molto importanti. È vero, è la settima ormai edizione, un concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Castel Capoano e devo dire che è un momento pre-natalizio importante, il mondo giudiziario che si riunisce e si apre alla città. Lo facciamo quest'anno all'interno dell'Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio, ex Facoltà di Economia e Commercio, perché come è noto Castel Capoano è ancora oggetto di recupero architettonico, ormai sono quasi completati i lavori e l'anno prossimo si ritornerà nel Salone dei Busti. Un concerto che si concentra sul valore simbolico del presepe. Abbiamo detto che da un lato si recupera quella simbologia precristiana utilizzata sin dall'inizio anche dagli autori del Vangelo Apocrifa, quindi in qualche modo il richiamo alla grotta come luogo di nascita, di molte divinità e anche di rivelazione. Dall'altra parte la contrapposizione tra il bene e il male, il buo e l'asinello e ancora parlavamo anche dei tre doni usati dai re magi, da un lato l'oro che esprime regalità, l'argento che allo stesso modo esprime la divinità e la mirra invece la sapienza, fino anche i pastori. Pastori intesi come una funzione di veglia, di vigilanza, un'anima del mondo che passa e che in qualche modo induce all'analisi introspettiva e alla riflessione. L'importante iniziativa nasce con l'intento di promuovere le iniziative culturali in una città che ha fatto della grande tradizione culturale il percorso ideale verso la riqualificazione sociale ed intellettuale del contesto urbano. Presidente Bonaiuto, concerto di Natale Fondazione Castel Capuano, importantissimo, un altro appuntamento importante di quelli di Castel Capuano, con il Natale, con il simbolo natalizio in una Napoli che ha bisogno anche di quello. Che però è una Napoli in cui l'attività culturale è viva e si è molto ravvivato. Diciamo che il nostro concerto rappresenta il culmine di un'attività che noi andiamo a svolgere nel corso dell'anno sia nella nostra sede di Castel Capuano, che non è però il Salone dei Busti al quale noi aspiriamo e che a suo tempo era la sede naturale dei nostri concerti e che oggi non è possibile realizzarlo per i cantieri che ancora insistono in Castel Capuano, sia per tutte le attività culturali che andiamo svolgendo, anche altrove, insieme ad altre associazioni, ad altre fondazioni. Da ultimo avremo un altro concerto però di musica classica di Capodanno, insieme alla Ciconfraternita dei Pellegrini della Santissima Trinità, quindi si terrà lì alle 12 a Capodanno. Una simbologia forte, quella del Natale a Napoli, che mai come oggi accomuna la città partenopea Bethlehem, simbolo anch'essa di un'immigrazione d'altri tempi, in un contesto storico diverso ma sempre attuale. Napoli-Bethlehem, andate in ritorno, oggi c'è un simbolismo particolare sulle due città in senso di immigrazione. Richiamo un altro tema fortissimo, dei migranti. E' un tema che apre dibattiti estremamente complessi. La necessità di accogliere chi soffre è un dato umanitario insindacabile. Tuttavia l'Italia deve, proprio perché è esposta sul piano geografico, rispetto chiaramente ai paesi nel Maghreb, deve trovare un supporto da parte della politica europea. Non possiamo essere gli unici, ovviamente, che devono raccogliere persone che vengono veramente da guerre, che vengono da situazioni di estremo disagio. E quindi disciplinare con meno egoismo da parte di quello che è un po' il vero potere all'interno dell'Europa, credo che diventi una condiziosine qua non. E noi ci auguriamo che questo accada a breve. Ci tengo a sottolineare un altro dato, che questo concerto è organizzato dalla Fondazione Castel Capuano, che sin alla sua istituzione del 2011 ha un obiettivo ben preciso, quello di perpetuare la tradizione giuridico-forense napoletana. E noi facciamo questo attraverso convegni, dibattiti, concerti, per cercare di rappresentare una voce culturale in questa città. Nel bordo della nostra fondazione siedono rappresentanti degli organi territoriali, di banche, degli ordini professionali, delle accademie, della unione industriale. E in qualche modo si tenta di offrire un contributo, come stasera. Grande partecipazione istituzionale, come anche quella della società civile produttiva, che fanno da sempre la differenza, in una Napoli sempre alla ricerca del suo volto migliore. Tanto simbolismo, soprattutto per quello che è il Natale per i napoletani. È un momento di aggregazione importante per gli avvocati cattolici napoletani, quindi festeggiare il Natale tutt'assieme significa comunque aggregarsi, significa comunque essere espressione del mondo cattolico e quindi del Natale. Però poi tra le altre cose noi dobbiamo dire che la scuola forense napoletana è una scuola importante che dà dei punti a tutti quanti gli altri e tra le altre cose io mi faccio un augurio che un giorno un avvocato napoletano diventi ministro della giustizia. Presidente Manzo, anche la BCC è presente al concerto di Natale della Fondazione Castel Capuano, un momento importante per riflettere non solo sul valore del Natale, ma su quello della napoletanità a questo punto. Sì, io dico che è una serata straordinaria ma che più che riflettere dobbiamo fare, dobbiamo intraprendere, dobbiamo realizzare dei grandi obiettivi dove la cultura di carattere accademico, di carattere forense, naturalmente la nostra magistratura ci insegna detta la strada. Però serate come queste devono mettere insieme la Napoli positiva per sbracciarsi le maniche e fare un 2020, iniziare un 2020 oltre che di dichiarazioni anche di fatti, di efficienza, di miglioramento dei servizi e creare quei presupposti di carattere economico e sociale che servono ai nostri giovani per valutare nella loro agenda se andare fuori o rimanere a Napoli. Si vince tutti quanti insieme, non c'è un'Italia di serie A, non c'è un'Italia di serie B, non c'è una Napoli dei ricchi, non c'è una Napoli dei poveri, c'è solo Napoli. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.